Ciao! Oggi parliamo di un modello particolare di Arduino. Ciao! Ma quanti modelli di Arduino ci sono? Ce ne sono parecchi, anche se l'Arduino che oggi si trova più spesso nei kit è la versione 1 ed è diventato ormai uno standard. Sono state create parecchie schede che si possono inserire su Arduino Uno, per aggiungere altre funzionalità o per rendere più comodo il collegamento di vari sensori. Per cui gli esperimenti iniziali si fanno tutti praticamente sulla versione base di Arduino. Ma ci sono modelli anche più complessi, che a posto della CPU ATmega328 montano CPU più potenti, nel modo da controllare più componenti. Ad esempio Arduino Mega è una scheda al grande il doppio dell'Arduino Uno, ma con più del doppio dei pin, più memoria e più potente. E ci sono anche schede Arduino che includono una seconda CPU per avere una connessione di rete o per far funzionare un piccolo sistema Linux. Ma ad essere più interessanti sono le versioni miniaturizzate di Arduino. Infatti dopo aver usato lo sketch, provato sulla breadboard e verificato che tutto funzioni, si potrebbe voler racchiudere tutto il circuito in uno spazio più piccolo possibile. Sono state create numerose schede, che si chiamano Arduino Mini, Arduino Nano, Arduino Pro Mini, Arduino Micro, ecc. Si tratta di schede contenente il processore ATmega328 e pochissime altre componenti apposta per ridurre un paio di centimetri la dimensione della scheda. Spesso manca l'interfaccia USB, ma non è un problema, perché in molti progetti non è necessario il collegamento perenne al computer. Basta solo alimentare il circuito e tutto funziona in modo autonomo. In questi casi occorre un'interfaccia USB seriale solo per caricare lo sketch in Arduino, o per cambiarlo quando necessario. Qualche anno fa ho trovato questa scheda chiamata Arduino Pro Mini. Ho visto che ci sono varie versioni di Arduino Pro Mini e mi sono reso conto di non aver scelto una versione ufficiale o compatibile. Ma dopo aver fatto i confronti ho preferito continuare con questa. Queste schedine contengono solo il processore ATmega e il minimo dei componenti per farlo funzionare. In alcune versioni è presente l'adattatore USB, ma allora non viene usato il processore ATmega328, ma un altro processore con controller USB integrato. Il vantaggio di queste schede è la dimensione molto ridotta, poco più di 3 cm di lunghezza per poco più di 1 cm di larghezza. Si possono saldare direttamente i fili su appositi pin attorno al bordo, oppure si possono saldare dei contatti per facilitarne l'inserimento di questa scheda nel resto del circuito. Molte di queste schede possono essere inserite anche in una breadboard. Esatto! Proprio la possibilità di inserirle in una breadboard, ma anche la possibilità di inserirle in una piastra millefori, mi ha fatto preferire la versione non ufficiale, in quanto tutti i pin hanno la giusta distanza per essere usate nelle schede millefori, oltre ad averle trovate a prezzi bassissimi. Molte schede ufficiali, invece, hanno i pin A4 e A5 dislocati in un posto non usabile con la millefori. Quindi, se occorre uno pin particolare di Arduino occorre fare attenzione al modello preso. Inoltre ci sono anche schede che funzionano a 3,3 volt, oppure hanno un processore diverso dalla Tmega328. Queste due schede plumini sembrano uguali, ma questa è il processore Tmega328 e questa è il processore Tmega168. Funzionano entrambe a 5 volt, hanno gli stessi piedini, ma il processore 168 ha metà della memoria rispetto al 328. Tutti i piccoli sketch di Arduino funzionano con entrambe queste schede, ma se lo sketch diventa lungo, o necessita di memorizzare più dati del CPU168 potrebbe non bastare. Bello! E per programmare questi Arduino Pro Mini? Su uno dei lati corti ci sono alcuni pin, in pratica positivo e negativo di alimentazione, trasmissione e ricezione seriale e un reset speciale chiamato DTR. Occorre un adattatore USB seriale che lavori con segnali TTL a 5 volt o a 3,3 volt se la scheda usa questa tensione di lavoro. La più comoda si trova facilmente con il nome di FTDI232 o anche solo FTDI32. Ha un connettore mini USB per il collegamento al computer e dei pin liberi per collegare all'Arduino Pro Mini per la programmazione. Una cosa che ho notato è che la disposizione dei piedini non è sempre uniforme. Ogni modello di Arduino ridotto potrebbe avere i pin di programmazione disposti in modo strano. Infatti, per programmare Arduino Pro Mini potrebbe essere necessario il collegamento di questo tipo su una breadboard. Vanno collegati in modo diretto i pin VCC, GND e DTR. Invece il pin TX dell'adattatura FTDI va collegato al pin RX di Arduino. Il pin RX della FTDI va collegato al pin TX di Arduino. Ci sono anche adattatori USB seriali senza il DTR. Si possono usare tranquillamente per dialogare con un Arduino in funzione, ma occorre una manovra particolare al momento di caricare un nuovo sketch. Dato il basso costo, meglio usare direttamente una scheda FTDI per la programmazione ed eventualmente usare altri adattatori senza DTR per compiti dove non è necessario riprogrammare Arduino. L'adattatura FTDI, comunque, ha molti altri pin interessanti sul lato lungo, utili in caso di collegamenti seriali più complessi, ad esempio quando è necessario usare il controllo hardware della trasmissione. E si può scegliere se lavorare a 5V oppure a 3,3V. Per rendere più semplice la programmazione di Arduino e accedere ad altri pin, ho progettato questa basetta con fritzing. E ho scritto in modo più visibile il nome dei pin. Ma una volta scritto lo sketch, occorre fare qualcosa di particolare per usare queste schede? A seconda del modello di Arduino, occorre configurare la porta seriale, il modello ed eventualmente la CPU. In Linux alcuni adattatori USB creano un dispositivo TTYUSB0 o TTYUSB1, mentre altri creano un dispositivo TTYACM0 o TTYACM1. Va selezionato il corretto modello di Arduino 1 oppure Arduino Pro Mini. Selezionando Arduino Pro Mini viene chiesto anche quale CPU si sta programmando e la tensione di funzionamento. Poi si dà il comando di caricare lo sketch come al solito. Bene! A questo punto Arduino si può scollegare dalla seriale FTDI e può iniziare a lavorare per conto suo. Adesso vediamo la parte più divertente. Prendiamo un altro PC e un'altra scheda FTDI. Apriamo l'ambiente di sviluppo di Arduino e il monitor seriale, ovviamente configurati con la giusta porta seriale. Adesso colleghiamo tra loro i terminali di massa delle due seriali FTDI. Colleghiamo il terminale TX di una scheda FTDI al terminale RX dell'altra e viceversa. Adesso, se scriviamo qualcosa in un monitor seriale, appena premiamo il tasto invio, questo comparirà nel monitor seriale dell'altro computer. I testi sono ovviamente trasmessi attraverso la seriale. Abbiamo quindi visto uno dei primi modi di trasmissione dati tra computer. Fino ad alcuni decenni fa, praticamente tutti i computer erano provvisti di interfaccia seriale. Col tempo le interfacce seriali sono state rimpiazzate da altri sistemi, sia per la velocità di trasmissione, sia per rendere più semplice la connessione. Oggi si usano molti standard per trasferire informazioni da una macchina all'altra, praticamente tutti basati sul TCP IP, mentre per collegare un calcolatore con altri dispositivi si è affermato il sistema USB. Adesso proviamo a fare un altro giochetto. Prepariamo uno sketch particolare. Nella funzione setup inizializziamo la seriale. Nella funzione loop creiamo un'attesa finché la funzione serial.available restituisce vero. Poi leggiamo un carattere dalla seriale. Controlliamo che questo carattere sia compreso tra A e Z. Se è compreso tra queste lettere scriviamo sul seriale il valore 155 meno il carattere trasformato in byte. Altrimenti controlliamo che questo carattere sia compreso tra A minuscola e Z minuscola. In questo caso scriviamo sulla seriale il valore 219 meno il carattere trasformato in byte. Altrimenti stampiamo sulla seriale il carattere appena letto. Carichiamo lo sketch. Adesso stacchiamo Arduino e alimentiamo direttamente la scheda con 5 volte. Prendiamo i due PC con i convertitori FTDI. Colleghiamo tra loro i PIN TX di un FTDI all'RX di Arduino. Il PIN TX di Arduino lo colleghiamo al PIN RX della seconda FTDI e colleghiamo il PIN TX della seconda FTDI al PIN RX della prima FTDI. Proviamo a scrivere qualcosa sul monitor seriale del secondo PC. E appare tale e quale sul primo PC. Sì, ma adesso provo a scrivere qualcosa dal primo PC e guarda cosa compare nell'altro. Sul secondo PC compare qualcosa di strano, ma ci vuole poco per capire che le lettere dell'alfabeto sono state invertite. Infatti. E se sul primo scrivo il messaggio arrivato sul secondo PC, quindi riconvertito nel messaggio originale? Quindi abbiamo trasformato Arduino in un codificatore di messaggi, anche se la tecnica è molto banale e bastano pochissime parole per capire il trucco. Ma soprattutto abbiamo visto che si può anche usare in modo flessibile i PIN della seriale. Magari nei prossimi video faremo degli esperimenti più interessanti. È comunque intuitivo che un PIN TX può essere collegato ai PIN LX di più apparati e tutti riceveranno lo stesso messaggio, mentre non possono essere direttamente collegati tra loro i PIN TX di apparecchi diversi. Infatti. Faremo degli esperimenti anche su questo, ma prima mi sa che è meglio approfondire alcuni aspetti più semplici. Ad esempio, come fanno le lettere ad essere trasmesse sulla seriale? Qui io potrebbe parlare del codice ASCII, ma meglio farlo in un altro video. Infatti. E ci stiamo già lavorando. Bene. A presto. Ciao a tutti. Ciao.